GF VIP, Edoardo Tavassi fa delle insinuzioni su Donna Maria, perché starebbe ancora con Antonella Fiordelisi. Nella casa del grande fratello VIP si è parlato ancora di Antonella Fiordelisi. Nonostante la ragazza sia stata eliminata dal gioco, Antonella è infatti tornata fuori dalla porta rossa per dire la sua ad alcuni dei vipponi rimasti ancora in gioco. Soprattutto a Micolin Corvaia, con cui si è consumato un acceso di battito. Antonella ha rivelato a Micol che Edoardo Donna Maria avrebbe smesso di seguire sui social sia Micol che sua sorella Clizia. Alla luce di quanto visto una volta fuori dalla casa di Cinecittà. Una volta finita la diretta, Tavassi e Oriana Marzoli si sono confrontati proprio su Antonella ed Edoardo che fuori dalla casa del GF VIP continuano la loro storia d'amore. Diceva le peggio cose, su Antonella, e dopo gli va bene fare, ha insinuato Tavassi su Donna Maria. Trovando il pieno consenso di Oriana. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa and demolishing Italy Music, Mose from Ben Sound. Come leggi anche, la reazione scioccata di Donna Maria dopo averlo visto, non ce credo. Cosa ha commentato su Instagram? Centra anche Antonella. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel Trage de mine caracterul meu de fier Că baie, pioaie, vând nici un curcubeu Dar ce că toate astea-s doar în capul meu Și-mi zice du-te, nu mai sta Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta Și-n plus, poți să sari sus, sus, sus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei N-au avut hava Când în sus, când în sus, când în sus, când în sus Pot eu să sta Acum că nu